Buon pomeriggio, ben ritrovati all'85 Sport, informazione sportiva di Canale 85 che apriamo parlandovi del mercato bloccato per i giallorossi a causa del covid, dei particolari nel servizio di apertura di Matteo Bottazzo. Il coronavirus può incidere sul mercato del Lecce, il direttore Pantaleo Corvino era partito subito con le marce alte con gli arrivi in pochi giorni del polacco Listoski e del centroavanti Massimo Coda che avevano infiammato la piazza. La positività di Taksidis e soprattutto quella di Vera Ramirez pare abbiano paralizzato anche il mercato dei salentini sia in entrata che in uscita, proprio il greco sembrava dover essere un giocatore con le valigie in mano, ma questo stop dovuto alla sua positività al covid potrebbe allontanare le pretendenti che almeno inizialmente avevano pensato al centrocampista ellenico. Ma lo stato di quarantena complica anche le operazioni in uscita, oggi i giocatori sono blindati nella quarantena durata della Kayakov Club, una condizione che non permette a nessuno di loro di lasciare il salento per accasarsi altrove. Situazione in stand by perciò per i prezzi pregiati e il mercato con il direttore Corvino impegnato a trattenere Gabriel, Falco, Petricione e Capitan Mancosu che ogni giorno però potrebbe essere sempre più vicino a proseguire la sua avventura a Lecce per andare a caccia di una nuova promozione e di nuovi record che potrebbero permettergli di entrare sempre più nella storia del club giallorosso. Intanto sul fronte di Liberani è arrivata l'ufficialità del suo passaggio al Parma con cui si è legato per le prossime due stagioni, mentre non ci sono ancora novità per il suo staff che non è stato ufficializzato in balla. C'è ancora il contratto con il Lecce che dovrà essere risolto e non sarà una situazione alquanto semplice. E ora passiamo a parlare della Virtus Francavilla che prosegue il ritiro e le novità arrivano tra campo e mercato. Ce ne parla Stefano Di Bella. Continua ad allenarsi nel ritiro di Chianciano Terme la Virtus Francavilla. Doppie sedute d'allenamento, una al mattino e una al pomeriggio. Prevista soltanto una mezza giornata libera ancora da stabilire ma che probabilmente sarà nella giornata di domenica dove i biancazzurri potranno rilassarsi ma soprattutto ricaricare le pile. Ancora è intrecciato il nodo relativo alle amichevoli. Difficile stabilire con certezza quando e se ce ne saranno durante questo ritiro. Il motivo è molto semplice ed è legato alle difficoltà logistiche per poter rispettare quelli che sono dei protocolli molto stringenti a causa dell'emergenza sanitaria. Nel caso in cui non si riuscisse ad organizzare un amichevole con una rappresentativa locale però sicuramente ci sarà quella che in gergo viene definita sgambata ovvero una partitella in famiglia. Sul fronte calciomercato Federico Mastropietro è finito del mirino del Cittadella per il centrocampista classe 99. Al momento non c'è nessuna trattativa, si tratterebbe solo di un semplice sondaggio. Nell'ultima stagione con i biancazzurri il numero 11 ha totalizzato 31 presenze mettendo segno anche 3 gol. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando bene, il gruppo in gran parte si conosce, c'è qualche ragazzo nuovo che non avrà alcuna difficoltà ad ambientarsi perché i ragazzi li hanno accorti benissimo, qualcun altro dovrà arrivare, stiamo lavorando nella maniera giusta, con lo spirito giusto, vogliosi di far bene, ma non è nient'altro insomma. E queste erano le parole del tecnico della Virtus Francavilla direttamente da Chianciano Terme dove i biancazzurri sono in ritiro, quindi prime impressioni positive, si lavora bene nel ritiro biancazzurro. Proseguiamo e parliamo della Brindisi che ovviamente prosegue a agire sul mercato per chiudere la rosa disposizione di Claudio De Luca, si cerca una coppia di difensori centrali, potrebbe arrivare tra lunedì o martedì la firma sul contratto che legherà Pietro Sicignano, difensore centrale appunto ex potenza ma anche ex Brindisi, proprio al club biancazzurro. Ma intanto vediamo un servizio che ci parla di questo importante tesoro che il Brindisi ha e che sono i suoi tifosi, la Curva Sud Michele Stasi. Vediamo. Il gruppo Ultras della Curva Sud Michele Stasi risponde all'appello del centro trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi. Questa mattina circa 20 tifosi, come vediamo dalle immagini, si sono recati presso il centro trasfusionale per dare il proprio contributo alla donazione del sangue. Lo stato di emergenza, la carenza esiste, è reale e l'appello a donare è stato colto al volo dai ragazzi della Curva. Un gesto nobile che mostra il lato che non siamo abituati a vedere di un movimento Ultras, quello sociale a cui danno un grande contributo. Il movimento Ultras Bindisino che da qualche giorno si è riunito sotto un unico vessillo, quello appunto della Curva Sud Michele Stasi. Un gesto da cui prendere esempio. Donare il sangue è spesso sinonimo di salvare una vita. In poche ore gli Ultras della Curva si sono riuniti e con la stessa passione con cui occupano i gradoni della Curva si sono accomodati sulle poltrone del centro trasfusionale. Non è escluso che il gesto, la donazione, possa ripetersi in tempo breve. Bene, adesso parliamo del Taranto e ce ne parla delle ultime in casa Rosso Blu Enrico Losito. Gli ionici si apprestano ad affrontare l'esordio stagionale nell'allenamento congiunto di sabato contro la Tiferno Lerchi 1919. Squadra militante in Serie D sarà un test utile per mister Giuseppe la terza per provare uomini e schemi, in particolare il 4-2-3-1 che ha lo stato attuale. Sembra l'assetto tattico di base dei Rosso Blu, intanto attraverso una nota stampa il club ionico comunica che Aldo Chiari, preparatore fisico professionista, è entrato a far parte dello staff ionico. Chiari ha sottoposto gli atleti ad un programma di bioanalisi appositamente sviluppato e finalizzato al monitoraggio strutturale, funzionale e del carico interno. Per quanto riguarda il mercato, dopo l'ufficializzazione del ritorno del portiere Alex Sposito, il DS Montervino è impegnato a reperire il bomber da doppia cifra. Tra gli attaccanti corteggiati sarebbe tornato in auge Saveriano Infantino, classe 1986 con una lunga militanza in D e C. Ultima stagione nella Carrarese dove ha totalizzato 24 presenze realizzando 16 reti. La pista argentina invece condurrebbe a Dennis Stracualursi, classe 1987, poderoso centravanti con trascorsi nella prima divisione argentina con le casacche di Gimnasia Tigre San Lorenzo e Lanus, oltre all'esperienza in Premier League con l'Everton nella stagione 2011-2012, ultima annata trascorsa nell'atletico De Raffaela. Altro attaccante di interesse, un altro argentino, il mancino Ramiro Costa, classe 92. Tra gli under ci sarebbe all'attenzione Cristian Mariano, classe 2000, ultima stagione a Monopoli. In difesa sfumato Michele Murolo che resterà nella Carrarese. Resta attenzionato Daniele Rosania, ex audace Cerignola. E dal Taranto passiamo al Casarano. Le Serpi starebbero guardando con molto interesse ad Amil Gassama, i particolari nel servizio di Giuseppe Di Cera. Casarano sempre attivo sul mercato. Uno degli ultimi sondaggi sarebbe stato fatto sul guineano Mohamed Amil Gassama, trequartista o seconda punta del Potenza, formazione che nel campionato 2019-20 ha conquistato il quarto posto nel girone C della Serie C, finendo per essere eliminata nei quarti di finale pre-off in casa della Reggio Audace. Complice anche un lungo infortunio, Gassama ha disputato appena due partiti in rosso-blu, ma dall'alto dei suoi quasi 21 anni da compiere il 28 ottobre rimane agli occhi degli addetti ai lavori un talento da coltivare. Gassama infatti già conosce la Serie D per averla disputata da assoluto titolare nel Gragnano durante il biennio 2017-19. Tuttavia sul ragazzo continua il percorso di preparazione della Prisma finendo per essere eliminata nei quarti di finale pre-off in casa della Reggio Audace. Complice anche un lungo infortunio, Gassama ha disputato appena due partiti in rosso-blu, ma dall'alto dei suoi quasi 21 anni da compiere il 28 ottobre rimane agli occhi degli addetti ai lavori un talento da coltivare. Gassama infatti già conosce la Serie D per averla disputata da assoluto titolare nel Gragnano durante il biennio 2017-19. Tuttavia sul ragazzo avrebbero richiesto informazioni diverse società, molte della C come Renate e Cavese, mentre dalla D Rimini Siene e Saronno e per poterlo prendere sarà dunque necessario sbaragliare una folta concorrenza. Intanto bisognerà capire che intenzioni abbia il neotecnico dei Lucani Mario Somma e poi ci sarebbe da considerare anche una questione normativa non di poco conto sui calciatori stranieri. Infatti questi ultimi in Serie C acquistano lo status, professionalmente parlando e volendo fare una sintesi, di calciatori italiani. Condizione che in D verrebbe persa, quindi affinché il calciatore scenda nei campionati dilettantistici è necessario che scelga una società solida e che stia costruendo una squadra per salire e rientrare tra i professionisti e così dicendo sembrerebbe di fare l'identikit del Casarano. Bene, molto chiaro questo servizio della collega Di Cera. Adesso invece con il servizio di Vito di noi andiamo a fare il punto del calcio a mercato tra Serie D ed eccellenza. Vediamo il servizio. Valutazioni in corso a Bisceglie. Il DS Squatto ha messo nel mirino l'estremo dipensore Salvatore Prudente, classe 2001, già in D con le casacche di Crema e Savoia. Al ribasso perciò le quotazioni di Mattia Guarnieri, fino a poche ore fa deputato in pectore a difendere i pali nerazzurro stellati. Il classe 2000 è destinato a lasciare Casarano e non si esclude un suo ritorno a Pasano, laddove ha salutato il 2002 Gaetano Mennella, destinazione Corato. Il Molpetta valuta la decima riconferma rispetto alla passata stagione. L'attaccante Mohamed Sani, salvo imprevisti, resterà alla corte di Renato Bartoli, tant'è che a breve è previsto l'annuncio ufficiale. Il Cerignola per il reparto offensivo tratta invece l'ex Bari Francesco Grandolpo, reduce dalla parentesi alla San Benedettese. In eccellenza il Sava si assicura le prestazioni del centrocampista classe 90 Antonio D'Arcante. L'ex Corato sembrava destinato al Maglie. Colpo offensivo per l'ambiziosa Dacia Barletta. Alla corte di Iannone si accasa l'Eigmusa, prima punta gambiana classe 98. Piace inoltre Felice Donoprio, il classe 94 potrebbe già salutare il Barletta di Farina e far ritorno all'audace. A Castellaneta infine si dimette il DS Michele Pavone. Per la sua sostituzione circola con insistenza il nome dell'ex Martina Francesco Morgese. Torneremo tra poco a parlare di calcio, in particolare del campionato di eccellenza con Martina e Manduria, ma adesso apriamo una parentesi dedicata alla volley. Prosegue la preparazione della Prisma Taranto. Le impressioni dello schiacciatore tarantino Alessio Fiore dopo i primi giorni di lavoro. Sentiamo Cristian Cesario. Tra sorrisi, entusiasmo e tanta voglia di fare bene, continua il percorso di preparazione della Prisma Taranto Volley. Nel raduno di mercoledì scorso al Palafiomoli, uomini di Vincenzo dipinto, intensificano gradualmente i carichi di lavoro. Alle sedute prettamente fisiche curate dal preparatore atletico Alberto Castelli, il Magoli Turi alterna delle sessioni di allenamento specifiche con l'utilizzo della palla, lavorando sui fondamentali del volley. Alessio Fiore, esperto schiacciatore 37enne, è già pronto e determinato per questa nuova avventura in rivalo Ionio. Gli stimoli li trovi quotidianamente, dandoti quotidianamente degli obiettivi del non accontentarsi mai, del voler crescere quotidianamente e di non essere mai arrivato, perché la mia filosofia è che c'è sempre da imparare. L'atleta tarantino parla anche del gruppo che si sta costituendo in queste prime settimane di lavoro. I primi giorni di allenamento sono ovviamente sono duri, ma è giusto che debba essere così, perché altrimenti non si partirebbe con lo spirito giusto. Il gruppo posso dire che con l'andare del tempo possiamo diventare veramente un gruppo molto forte, molto solido, dove sicuramente avremo delle difficoltà durante il campionato, durante le partite, quindi creando il gruppo solido riusciremo a venirne fuori di squadra, diciamo, e non singolarmente. Società solida e gruppo sano. Ad affermare questo è Dino Marino, ex capitano del Brindisi, che ha dato il via alla sua nuova avventura, in quella di Martina. Sentiamo. Si lavora, si scherza, si suda. In ritiro il Martina prepara la prossima stagione in eccellenza, dopo un mercato con diversi colpi da 90. Uno di questi, Dino Marino, ormai ex capitano del Brindisi, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter con tanto di esordio in prima squadra, ci racconta le proprie sensazioni. Siamo qua a Camerino, in un bellissimo centro, i miei compagni di squadra. E niente, diciamo, siamo un bel gruppo, ci siamo iniziando a conoscere, lo staff, un grande staff tecnico, anche il massaggiatore, il magazziniere, diciamo, un bel gruppo veramente, comprende tutti. Per quanto riguarda gli allenamenti, l'unico dovremmo finire il ritiro e torniamo a Martina. Marino parla di progetto solido, tra la serietà della società e un gruppo che è già unito. Speriamo di dare del nostro meglio, una società solida, nuova, è un bel progetto e noi cercheremo di fare il massimo per toglierci qualche soddisfazione, sapendo pure che è una società giovane, quindi le cose si fanno piano piano. L'importante è che stiamo cercando di formare il gruppo, la cosa importante è quella. Bene, adesso passiamo a parlare della Manduria, Manduria che travolge la Cedas in un allenamento congiunto. Vediamo. Sette gol alla Cedas Brindisi, con pagine di prima categoria per il Manduria, alla prima uscita del proprio precampionato al Demitri di Marugio. Quattro reti nel primo tempo, così come vediamo dalle immagini dell'ufficio stampa del Manduria. Doppietta di Malagnino che ha colpito anche una traversa sul calcio di punizione, poi Zaccaria e Carrara. Nella ripresa gol dello stesso Carrara e doppietta di Conte. Gambe ancora pesanti dopo una sola settimana di lavoro. I biancoverdi però cercano di entrare subito in condizione per il prossimo campionato di eccellenza, nel quale sono stati ripescati. Ma mister Cosma predica calma, bisogna continuare a lavorare, dice. Ancora siamo lontani, adesso abbiamo ancora un'altra, due o tre settimane altre di lavoro, sfruttiamola a pieno per poter registrare ogni reparto, ogni situazione, poi insomma quando ci arriveremo ci inizieremo a preoccupare. Sarà un Manduria che darà da torcere a tutti quanti. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Canale 85. Grazie a tutti per l'attenzione